Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Io sono Pietro e siamo tornati che mi tirano i pomodori Siamo tornati a un nuovo video di Fortnite Mi raccomando bel pollice in su 20 like per un prossimo video Domani video di FIFA forse E quindi vediamo un po' dove andare Dove potremo andare Andiamo 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 dove andiamo Dove possiamo andare La mia città Ma si andiamo a Borgo vai Borgo bislacco Andiamo a Borgo bislacco Borgo bislacco Fino alla fine Borgo bislacco Mi raccomando commentate per Cioè darmi delle indicazioni Vediamo se fare una partita o meno Cioè una partita o più Cioè Borgo Ah beh No quella è la mia casa Bastardo 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 Dammi la mia casa Dammela Dammela Ecco quello è già La mia casa è la bomba Che è di bella Satti Femmes Sali Sali Non l'ho colpito Quello è sicuro Non l'ho colpito Non l'ho colpito Ehi 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 Sai galmo Aio Eh si La botta regà Me l'ha data Direi di fare direttamente Un'altra partita Ecco sfocato Ecco Dai mettilo bene E mettilo bene Oh no Senza lo sfogo Lo sfogo Minchia si dice Ecco no Dai raga Ecco stai fermo così Aspetta faccio Stai fermo bravo Adesso torno indietro E lo metto così Bravo Stai buono così eh Non ti muovere Ecco qua Dog Che pasque Dai Lo so che non devo muovere Però è complicato Raga Cioè guardate come sto Cioè capite così E il telefono in mezzo Non è facile Per niente Guarda si vede tutto sfocato Raga Dammi questo Tre colpi E Gisotto è preso Che mila Ciao Ciao Ok Vediamo dove andare Gerusalemme Vai andiamo tutti a Gerusalemme Regà ma quanto Scrivete nei commenti No niente Non è vero Scrivete nei commenti Come migliorare Domani faremo un video Su FIFA Carriera di Ascoli E niente Andiamo a Gerusalemme E vediamo come va Dai Alla fine della corsa Alla fine Alla fine Alla fine Della corsa Puoi saltare? Ti sicuro? Ti sicuro? E allora Saltiamo Tutto sfogato No Aspetta No non è vero Ok C'è gente? Ma dai Ti vieni Mentre c'è anche un tizio Vabbè Io guardo Sta bistogna qua Dove stai? Dove stai? L'ho sentito Eh Mostra Ah eccolo Ciao zio Ti ho preso malissimo L'ho massacrato Mazza Mazza che necche Ammazza Aspetta Faccio così Così Un altro Un altro Porca puttana No raga Mamma mia 15 da vita Mamma mia No no preferisco Quell'altro Aspetta Per sicurezza Poi tirate le bende Che partita complicata Ma quello Da dove è spuntato Da dove è spuntato raga Vabbè Due kill subito Così Random Così 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 Ok Poi Slurp Oh questo addirittura Due ce ne aveva Ma noi ce ne spariamo Una sola Dai Non essere sfocato Bravo Qua che è? Pistola pesante Pistola pesante Non la vuoi Mitraglietta No Oh si No 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 Ne va a prendere il nostro Bell'amato Caccia Caccia No no Se l'ha sfocato Fermati Bravo Allora Spero che questa partita Ve la faccio vedere Spero Ok Qua è tutto carico Tutto carico Perfetto Full Shield Full Vita Ok Possiamo andare avanti con il video Lutiamo Oh siamo pure in safe Tre colpi Non mi interessa Scrivetevi nel commento Se prevede Tre colpi O Eh vabbè Scelta dura O l'M4 Io lo chiamo Oeeee Stavolta non è una scelta dura Medit Non ci interessa Qua non c'è niente Granate Pistola Merenne Devo dire subito così Cioè 15 di vita Quello mi ha massacrato Con la mitraglietta Perché non sapevo dove stava E quindi Cioè non sapevo Un quad Eh no Qua c'è stato già Bene raga Ho già perso l'orientamento Siamo proprio messi Alla grande Guarda Sto tornando nelle case di prima Qua tu hai lasciato la cassa Brutto Brutto Malandato Ah Ha lasciato sotto Ma pure io raga Io non ce pego Bella Dinamite Però non la posso più Bello Eh vabbè Non si vede proprio la grande Eh Però spero L'avevi fatto vedere Abbastanza Ah qua Ecco dove stava Quello Aperto qua Aperto Eh che infatti Mi sa che è lootato Pure qua È lootato? Sì Aspetta Eh Sì Iuhu Che cos'è? Ah le gomme Ciao Ciao C'è qualcosa di casa? Brutto letto È brutto Torretta Addirittura Una torretta Regà Mi hanno dato Non bastava No E andiamo Ciao a tutti Ehi Ancora Voglio volare Ho preso pure Le munizie Andiamo Ui Yeah Ale 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 Tu è chi? Tu è chi? Ma Te sacco Bello questo Mi gusta Andiamo a prendere la casa là Casa Nooo Stai aperto Brutto Vabbè dai Andiamo a lootare No Sfocato no Ok Scusate che se in certi punti si è sfocato Però raga Eh vabbè Ancora non c'è la web La webcam Non c'è niente Però aspettate Che bot Che ho preso Qua che c'è Ah Qua qui sono Bella Sotto c'è che cosa Un dettico Torniamo questo E lootiamo Qua non c'è niente Vediamo Un altro Un altro E non ti baggare Airdrop Dove sta? Là? Dove sta? Eh Così vicino Ammazza Spero che l'abbiate visto Sper Certo che l'hanno di Do sta? Eh La 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 Non credo c'è Aio Tutto sfocato no Tutto sfocato no Tagli Bravo Bravo Io Allora Luto qua Non mi serve Niente Grazie Allora Qua dentro Salve signor Che ha cagato Per chiesto Salve Ma che? Niente? Va bene Airdrop qua Prendiamo Speriamo in un bel Barret Non essere sfocato Non essere sfocato Dai Dai regà È troppo sfocato Non essere Vabbè Vabbè Che faccio La faccio La metà del video È sfocato Cavolo Vabbè comunque Raggiungiamo 20 like Domani Altro video Di fa No Di fa Di fifa Siamo rimasti Siamo rimasti Ma che Non ci voglio E andiamo Andiamo in safe Altro aeroplano che fai tu là spero che lo... no voi non lo vedete che sta oh aio bombeccia ammazza che necche che gli ho dato raga 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 ce la faccio 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 138 voi sicuramente non l'avete visto niente io so sicuro tutto sfogato corrì 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 forest corrì forest corrì no non voglio il danno nooo ok mazza 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 raga io s'ho dato una necca a quello 138 in testa e quello mi ha preso in testa cioè non in testa mi ha preso il no scoop col cecchino no non era il cecchino non so che era questo lo voglio mamma mia quanto vedete è sfogato sono 16 minuti di registrazione sfogata e e non 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 ora 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 stai via 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 è morto raga credo che sia morto io purtroppo dovevo ricaricare dovevo ricaricare il cecchino dove? eccolo là ce lo ritroveremo dietro quel tizio là sento sparare eccolo regalo un saco sui ok 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 ecco 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 boom bitch ammazza che aiuto dove? ah io sono morto eh ciao raga accidenti 4 kill eh 41 di video l'ho chiappato questo è già 3 kill raga vabbè voi non avete visto proprio bene bene però spero che vi ho fatto vedere abbastanza lui è stato bravo perché ci ha visto vabbè comunque questo video si conclude al termine 4 kill tutto a posto io spero che vi avete visto abbastanza e ora mi finisco a vedere e questo video è durato 20 minuti 20 like per questi 20 minuti e niente spero che il video vi successe così bel pollice in su come vi ho detto 20 like scusate se lo ripeto sempre e commentate datemi i suggerimenti qual è la vostra arma preferita eccoli ammazza che necce e vabbè ci vediamo al prossimo video bella ragazzi grazie a tutti grazie a tutti